segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ma un tempo come abbiamo scritto anche oggi sul foglio si parlava dell'effetto di chi voleva salire sul carro del vincitore no è la classica scena che si vede dopo le elezioni chi vince ha subito un consenso incredibile tra tutti quelli che sono indecisi cioè il vincitore suscita simpatia oggi la stessa scena e coi trattori sono tutti sul trattore del vincitore ed è una scena qua tra il paradossale e il sul reale che è vincitore il trattore è vincitore perché gli agricoltori che sono sui trattori sono arrabbiati con tutti sono arrabbiati con l'europa sono arrabbiati con il governo sono arrabbiati con le opposizioni perché la famosa pac la famosa legge è stata votata è stata votata non soltanto tutti ma è stata approvata da un governo guidato dall'attuale capo dei 5 stelle con ministro patuanelli ministro dell'agricoltura quindi ce l'hanno con tutti e tutti stanno con gli agricoltori cioè gli agricoltori ce l'hanno con l'europa l'europa dice ok avete ragione voi vi diamo tutto quello che volete gli agricoltori ce l'hanno con il governo il governo sta con gli agricoltori gli agricoltori ce l'hanno con col diretti col diretti sta con gli agricoltori e che attaccano il governo quindi il governo che è etero diretto da col diretti sta con gli agricoltori che ce l'hanno con il governo e con col diretti ma non è uno scioglilingue perché ci sono in questo momento due elementi, l'elezione europea naturalmente, quindi nessuno vuole perdere consenso a partire da Ursula von der Leyen ma la stessa cosa succede in Francia che sui pesticidi quella cosa lì abbiamo visto anche utilizzata in qualche modo come un fatto enorme essendo che non lo era questa questione quindi può essere paradossale ma è anche pericolosa secondo me perché non c'è nessuno che faccia un ragionamento improntato sulla ricerca della verità, perché è ovvio che in questo momento anche in Italia agli agricoltori alcuni privilegi sono stati tolti, perché gli agricoltori non pagano l'IRAP non pagavano l'IRPEF non pagano l'IRPEF sugli edifici non pagano l'IMU, hanno una serie di privilegi in questo momento in Europa il bilancio comune europeo che vale 1200 miliardi, un terzo è destinato a loro e loro producono gli agricoltori in Europa il 3% del PIB, quindi sono molto privilegiati, quando però gli si toglie un picco privilegio gli agricoltori protestano e se comincia a passare la logica che basta protestare, andare in piazza con i trattori sulle strade per ottenere quello che si vuole odio gli agricoltori, ma domani chi arriverà? quindi la politica deve stare attenta a non cedere eccessivamente anche se dentro quel privilegio che tu racconti bisogna andare a vedere come quel privilegio incide sui piccoli, sui medi, sui grandi perché probabilmente c'è qualcosa che non funziona incide molto sui piccoli naturalmente ma i piccoli ci sono in Italia e sono tanti, più del resto d'Europa perché vi è un'associazione che si chiama Coldiretti e quella associazione ha tutto il vantaggio ad avere tante teste che votano piuttosto che favorire un'aggregazione tra poche teste che hanno però dei colossi che possono difendere davvero gli agricoltori questo è un problema enorme che riguarda l'Italia ma che riguarda in particolare quel settore grazie grazie